La punta per la fresa O ha una forma a cilindro arrotondato, il suo grit è medio e il materiale di questa punta è carbide di tungsteno blu. Le sue misure sono di 6 mm per quanto riguarda il diametro e di 13 mm per quanto riguarda la lunghezza della testa. Il carbide di tungsteno è una lega metallica molto resistente che quindi garantisce una lunghissima durata alle punte per la fresa. Inoltre garantisce dei risultati ottimi in poco tempo. Questa punta inoltre ha delle particolari scanalature in tagli che creano una polvere più spessa e che per questo viene aspirata molto più facilmente dall'aspiratore. Per questo è consigliata nella fase di lematura e smontaggio del gel o dell'acrilico. La sua punta arrotondata è inoltre intagliata e quindi permette di rimuovere il prodotto in maniera più precisa ma sempre facendo attenzione a non toccare la pelle o le cuticole. Come tutte le punte fresa deve essere ben riposta e maneggiata con cura perché una sua caduta accidentale potrebbe danneggiarne la grana. Questa punta nonostante possa essere usata ad altissime velocità non brucia e non crea calore. Inoltre consigliamo l'utilizzo di questa punta con una fresa professionale e non portatile e soprattutto che ha acquisito manualità con il micromotore. È una punta universale che si adatta alla maggior parte delle frese e infine è una punta sterilizzabile che quindi non arrugginisce nel tempo. Grazie a tutti! Grazie a tutti!